Bergamini. Da Piero Bria il saluto a Denis. Ciao Denis, con tutto il nostro cuore, perché sei qui e rimarrai sempre qui. Il nostro saluto a voi tutti, per questo che è stato uno speciale dedicato a Denis Bergamini, la copertina di chiusura e la buona serata a voi tutti. Arrivederci. Denis, oggi sarebbe donato, nel senso di un maggiore distacco dalle cose e dal mondo, mediato anche da un nome che avrebbe senso di per sé. Donato a 50 anni, potremmo immaginarlo pienamente immerso nel mondo del calcio, perché se è vero che è arrivato tardi nel professionismo, è verissimo che aveva il calcio nel sangue e nella mente. Bergamini è allenatore, ovviamente. Nessun altro ruolo gli sarebbe stato congeniale. Bergamini era troppo bravo tatticamente per non emergere. Il campo, infatti, è ancora oggi una fantastica livella di democrazia. È donato, aveva qualità da vendere, anche se non usava vantarle a parole. D'altra parte, i fatti sono sempre stati molto più eloquenti delle parole. I fatti, dunque, lo avrebbero portato su una panchina tutta sua, sì, tutta sua. E lì sarebbe cominciata un'altra storia, nel romanzo d'amore che lo legava al pallone di cuoio. E poi sarebbe stato amato, amato come nessun altro, dai tifosi che lo avrebbero chiamato donato, non Dennis, che avrebbe lasciato il calcio giocato diversi anni prima. Donato, come chi resta con gli altri, per una precisa volontà divina. And we can have forever, and we can love forever, forever, please are today. Mi viene alla pelle d'occa ancora dopo tanto tempo passato senza di lui. Ciao, un bacio. Gli direi se è stato bravo, se è stato forte. O Dennis, io me lo sento ancora attaccato. O Dennis, c'è ancora qui, è guai a togliermelo. Ciao, Dennis. Impossibile di dimenticarti per quello che ci hai dato, per quello che sei stato e che sei ancora tutt'ora, nei nostri ricordi, vivo come allora. Ciao, Dennis. Ovviamente che ci manca tanto. Ci è mancato in questi anni. Ciao, Dennis. Forse è lui che ci saluterà. È lui che ci saluta. Ciao, Dennis. Dennis, continua così la tua vita, perché è stata breve, ma molto efficace. E chi la vuole capire, quello che ha fatto Bergamini, è sicuramente importante e servirà per loro, per un loro futuro. Ciao, Dennis. Ti vogliamo bene. Assolutamente. Assolutamente sei bene, Dennis. Sì. Ti voglio mandare un bacio. Sì. Ando un bacio, Dennis. Mua! Sì. 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 Sì.